Uno sportello all'interno di un altro sportello, scusate il bisticcio di parole, lo sportello universo donna all'interno dello sportello del cittadino, la mia striscia quotidiana. Siamo in compagnia di Gianna Cavallo, responsabile del settore pari opportunità e servizi sociali dell'associazione Stella Maris che porta avanti questo sportello, sportello universo donna. E' importante però anche l'approccio. In questa ottica state ponendo in essere, state realizzando un corso di formazione. Sì, perché al di là dell'ausilio di tante professioniste che naturalmente saranno presenti con noi alla gestione proprio dello sportello per dare un aiuto alle donne a 360 gradi, è importantissimo proprio l'approccio, quindi il momento dell'accoglienza. E grazie alla dottoressa Anna Colotta noi stiamo facendo un corso di formazione e ci riuniamo ogni lunedì e ogni venerdì dalle 19 alle 21 presso il cui il centro universitario in via Pupino. Oggi di chi siamo in compagnia? Oggi siamo in compagnia di Anna Maria Castronuovo che è una delle collaboratrici che sarà proprio predisposta all'accoglienza, quindi alla cura dello sportello, al primo impatto, all'abbraccio della donna che si rivolge a noi. Dicevamo il suo ruolo strategico, importante perché chiaramente è importante l'approccio, il primo momento, da lì può nascere tutto, può fallire tutto, un momento di grossa, estrema responsabilità. Certo, è proprio così, perché è importante che la donna proprio nel primo impatto, al primo contatto si senta al sicuro, si senta in qualche maniera accolta benevolmente. E questo non è molto semplice, perché molto spesso l'ascolto, la comunicazione che noi utilizziamo quotidianamente, in questo ascolto, in questa comunicazione ci mettiamo, che ne so, un po' del nostro, del nostro vissuto. E questo sicuramente non deve avvenire, perché l'ascolto che noi dobbiamo avere verso queste donne che si rivolgono a noi, che comunque hanno delle problematiche, deve essere un ascolto puro, deve essere un ascolto senza pregiudizi, deve essere un ascolto senza un minimo di... cioè la nostra partecipazione deve essere, sì, abbracciarla, ma con un certo, non distacco emotivo, ma una certa serenità, una certa lucidità, in modo che loro possano, sì, rivolgersi a noi per essere in qualche maniera seguite per tutto il percorso, ma devono anche sapere che noi siamo lì, ma che verranno seguite poi nel cammino da tante professioni, seguite da un team che li seguirà per tutto il loro cammino e tutto quello di cui loro avranno necessità.